ciao a tutti e benvenuti a questa pillola di informazione oggi vi parlo di un oggetto in particolare di questo oggetto questo che può sembrare una sorta di abajur in realtà è un componente di un sistema wifi sto parlando appunto del nuovo sistema wifi della netgear di nome orbi perché vi parlo di orbi perché è un sistema modulare che permette di raggiungere ampie coperture e permette quindi di creare un'unica rete alla quale tutti i dispositivi hanno accesso diciamo innanzitutto che orbi è un sistema adatto ad abitazioni e a piccoli uffici il vantaggio principale è quello di creare quindi un'unica rete con un unico nominativo alla quale tutti i dispositivi hanno accesso e di potersi quindi muovere all'interno delle stanze dall'abitazione piuttosto che appunto dell'ufficio senza doverci ricollegare a una rete. La caratteristica principale che mi ha fatto scegliere orbi è quella di avere un canale dedicato di comunicazione tra l'unità base e tutti i satelliti questo quindi ha il vantaggio di non occupare banda sui canali wifi dedicati agli utenti. Altra caratteristica interessante di orbi è l'installazione molto semplice e veloce attenzione però quando posizionate le basi perché è importante cercare di metterle nei posti per avere da un lato la copertura migliore dall'altro lato non avere una forte sovrapposizione del segnale. In ultimo arriveranno speriamo a breve nuove tipologie di satelliti da poter collegare al sistema per riuscire ad avere una copertura veramente totale dell'ambiente che ci interessa. Per concludere quindi orbi è un sistema semplice ed affidabile che permette di avere una copertura completa in tutta la casa o nel piccolo ufficio. Bene sul mio blog trovate una recensione più approfondita se volete andate a reggerla e alla prossima pillola di informazione. Ciao!